l'uomo della transizione ciao massimo benvenuto a tutti voi allora veramente è il caso dire che pendiamo dalle tue labbra nessuno di noi sa tutti lo diciamo la transizione ecologica ma che bordi come si dice insomma intanto vuol dire una cosa importantissima e forse per me è il mistero più importante che c'è in questo momento perché ci deve appunto portare dalla matrice fossile alla matrice di energia sostenibile perché diciamo un momento gravissimo dal punto di vista dell'ambiente dopo il 2015 l'accordo di parigi e la cv2 continua a salire alle stelle rischiamo di saltare anche gli appuntamenti che ci eravamo fissati con l'europa al 2030 2050 andiamo dritti contro un treno e poi una sfida enorme oggi la prima frase che ha detto draghi è saremo un governo ambientalista quello che poi dice poche parole quindi diciamo prendiamocela pesanti no è difficilissima come sfida perché si tratta di cambiare il modo di produrre il modo di consumare il modo di muoversi e anche perché vai contro le lobby del fossile no e lo sanno bene i francesi che sono stati primi a inventare questo ministero che ha avuto un percorso molto difficile però ecco è la polemica proprio di oggi di queste ore si era pensato almeno grillo aveva fatto credere ai 5 6 quando c'è stato il quesito su russo che questo ministero comprendesse le competenze di altri ministeri mentre invece alla fine leggendo la lista dei ministri è rimasto il ministero dello sviluppo economico quindi questo ministro super che poi è cingolani che poteri reali avrà beh intanto però è l'unione diciamo i due ministeri no perché ha preso tutte le deleghe del ministero dell'ambiente poi ci sono delle altre deleghe importanti chi si aspettava diciamo che ci fosse anche il mise dentro è rimasto scontento e lo sviluppo economico anche se poi cingolani ha specificato mario draghi ha il compito di essere il coordinatore appunto di tutti quei ministeri che dovranno lavorare in maniera diciamo tutti assieme per portarci fuori da questa da questa crisi meglio diciamo per effettuare la famosa transizione ecologica ecco la transizione ecologica il problema nostro sempre riccardo tu l'hai spiegato anche tante volte nelle termini e che noi italiani non riusciamo a spendere i soldi cioè non riusciamo a spendere i fondi i soldi dei fondi europei e ce la faremo questa volta oppure no perché noi ti portiamo degli esempi con delle foto che ti faccio vedere la prima foto che ti mostro è il tecnopolo di bologna questo è un caso di esempio in cui i soldi europei sono si racconteremo a lungo lunedì è molto virtuoso perché con i fondi europei hanno costruito stanno costruendo e finendo una cittadella della scienza ci sarà il centro europeo per per il clima ci sarà il più grande super calcolatore in europa leonardo ci sarà il 20 per cento di questa memoria che servirà alle università c'è la rigenerazione intero quartiere ed è l'esempio di come sfruttando bene i fondi europei stiamo parlando di quelli del settennato poi creare sviluppo e creare altri soldi esempio opposto invece l'altra foto che arriva dalla sardegna questo è il borgo di bitti nella barba questa è una cosa che ci ha colpito tantissimo se ti ricordi a novembre del 2020 un'alluvione terribile che ha distrutto l'intero paese quattro morti la cosa grave che nel 2013 c'era stata la stessa alluvione subito dopo non stati messi in campo 16 milioni questi sono dello stato ma non riusciamo a spendere neanche i 16 milioni dello stato era stato fatto il progetto bisognava fare delle vasche di decantazione non sono state fatte c'è stato il disastro di nuovo e questo fatto che noi non riusciamo a spendere i soldi è gravissimo no perché 209 miliardi una sfida enorme noi dovremmo spendere al doppio della velocità cinque volte la somma che non siamo riusciti a spendere nell'ultimo settennato visto che la corte dei conti europei ci dice che ne avevano spesi solo il 30 per cento draghi è arrivato per questo e io dico che sia capace di fare tutto questo ora la battuta vladimir luxuri si è candidato a fare il ministro della transizione ma invece draghi ha scelto cingolani tu beppe cingolani lo conosci credo forse ho incrociato una volta no ma comunque non lo conosco conosco bene invece in televisione si può anche dire la verità vittorio collaugi conosciamo a 25 anni perché invece la transizione digitale la parte transizione ma cingolani mi dicono essere un fuoriclasse vittorio collao ve lo garantisco io a te e a chi ci guarda è un fuoriclasse come lo era piacentini prima nello ste queste persone però vanno lasciate lavorare che non vuol dire fare i dittatori nel loro campo però vuol dire che silenziosamente sotto di loro penso che era quello quello a dire riccardo non ci deve essere qualcuno dei meccanismi che boicottano silenziosamente quello che fanno perché altrimenti non vanno da nessuna parte uno così che ha diretto vodafone o cingolani che viene da genova perché si mette a fare queste cose perché vuole l'auto blu perché vuole essere in televisione no è perché secondo me in un momento come questo tanta gente ha capito che seriamente io voglio credere a queste persone che l'italia ha bisogno di una mano io credo che draghi l'abbia fatto per questo guarda lui stava tranquillo andava al quirinale nel 2022 invece così ci andrà lo stesso però dipende molto da cosa succede in questo periodo ne faceva pure a meno e forse anche cingolani il quale sarà contento però sa bisogno di qualche suggerimento di vedere la puntata del lunedì prossimo di presa diretta magari questo pezzo che ti dimostriamo adesso sono oltre 190.000 proprietari di casa che hanno già usufruito del bonus per il rinnovamento energetico della propria abitazione per l'efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico è già stato avviato un programma di ristrutturazione di più di 4.000 edifici per quasi 3 miliardi di euro tra questi il museo nazionale di storia naturale l'università panteon sorbona e il louvre un miliardo di euro andrà solo a parigi e alla sua regione l'île de france 670 milioni di euro per i trasporti pubblici per treni autobus elettrici piste ciclabili che già oggi riempiono parigi e naturalmente era la francia si chiama france relance il piano di rilancio 40 milioni di fondi europei 60 li mettono i francesi a giugno l'hanno pensato a settembre l'hanno annunciato e ci sono un sacco già di cose operative uno dei motivi anche per cui c'è draghi è questo perché noi siamo in ritardo su questo piano di resilienza e resistenza e abbiamo 209 miliardi da spendere bene e subito noi non